Restano ancora fermi al porto commerciale di Salerno i 213 container con i rifiuti ritornati dalla Tunisia a bordo della nave Martin A della compagnia Arcas dopo l'inchiesta giudiziaria che ha fermato l'attività di smaltimento promossa dalla società SRA di Polla. Tutto il piano per il trasferimento nell'area individuata nel comune di Serri a Persano per la caratterizzazione lo smaltimento resta fermo a causa del conflitto di competenze tra la procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli e quella di Potenza con Francesco Curcio in attesa della decisione della procura generale che sembrerebbe orientata ad affidare l'indagine giudiziaria alla procura lucana. Stamani in prefettura si è tenuta una nuova riunione alla presenza dei sindaci di Serre, Battipaglia, Campagna, Eboli ed Altavilla, Silentina sul piede di guerra contro l'arrivo dei rifiuti. I sindaci sono stati convocati dal prefetto Francesco Russo dopo una prima riunione nelle scorse settimane che si era svolta semplicemente come comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ma solo con i vertici delle forze dell'ordine di rappresentanti di Ecoambiente e per la regione Campania il vice presidente Fulvio Bonavitacola. Il prefetto sta cercando di coordinare tutte le operazioni per il trasferimento dei container rassicurando le popolazioni, trasferimento che come è stato ribadito anche nel corso dell'incontro di questa mattina andranno caratterizzati a Persano. Se le procedure non incorreranno in intoppi dopo l'ok della procura competente ci sarà la delibera del presidente della provincia di Salerno Michele Strianese ed Ecoambiente avrà pronto già da lunedì 14 marzo il piano per trasferire in quattro giorni i primi 33 container. Il cronoprogramma prevede il trasferimento di una decina di camion al giorno. Durante l'incontro non è passata la richiesta avanzata ancora una volta dal fronte compatto dei sindaci di non utilizzare la piana del sele per lo stoccaggio dei rifiuti. Nel corso dell'incontro sono però state fornite ulteriori rassicurazioni sulla natura innocua dei rifiuti dovrebbe trattarsi ma il condizionale è d'obbligo ed è proprio quello che nutre le preoccupazioni della popolazione di secco indifferenziato. I comuni potranno nominare dei tecnici con i quali seguire le operazioni di caratterizzazione. In cambio di questo sacrificio la piana e l'aria di serre otterrà entro sei mesi l'impegno per lo smaltimento totale delle ecoballi già presenti nell'area individuata ed un programma più a lungo termine per rimuovere anche l'amianto abbandonato nel campo dei container con le roulotte post terremoto.